Siamo vicini al popolo turco, lo siamo con il pensiero che è l'unica cosa che possiamo fare adesso, ma una vicinanza che esprimeremo se ci verrà data possibilità, inviando volontari e mezzi. Il primo pensiero del Presidente del Veneto Zaia durante la conferenza stampa di presentazione di una nuova app che racchiude tutti i servizi erogati dalla Regione è andato alle popolazioni colpite dalle scosse di terremoto, la prima stanotte di magnitudo 7.8 sulla scala Richter, la seconda stamattina di 7.5 al confine tra Turchia e Siria. Si tratta di uno dei sismi più devastanti degli ultimi anni e il bilancio ancora provvisorio e drammatico. Migliaia di vittime, centinaia di disperse edifici rasi al suolo. In pochi minuti la terra si è spostata di tre metri lungo una faglia di 150 chilometri. La scossa di questa notte è stata seguita da un rischio tsunami lungo le coste del Mediterraneo, allarme arrivato anche in Italia e in Veneto. Io stamattina sentivo i nostri tecnici alle 5-5.30 di stamattina, che li ho sentiti, c'era anche il pericolo tsunami per noi, perché avevamo una previsione di un metro d'acqua su Chioggia, Venezia, che poi fortunatamente si è, come si può dire, si è diradato sempre di più e verso le 7-7.30. Insomma abbiamo chiuso anche questo stato emergenziale. E oggi, a tre anni esatti dall'inizio delle Olimpiadi Invernali del 2026, celebrati con un'alzabandiere in contemporanea dalle piazze di Cortina e Milano, non poteva mancare un'analisi di quelli che saranno gli effetti sui territori. Secondo lo studio universitario, i giochi invernali porteranno un miliardo di pila, al quale si aggiungono tutte le opere, ricorda Zaia. Non posso accettare che si dica che le Olimpiadi non portano a nulla ai territori, perché vuol dire anche non saper dare l'avere. E sulle polemiche legate ai costi per la realizzazione della pista da Bob, il presidente del Veneto ricorda che l'opera rientra nel dossier olimpico. Le spese che lo Stato, non la regione del Veneto, che lo Stato sosterrà per il Bob, saranno 100, 120, adesso non ho ben capito. Anche se le andassimo a detrarre dal miliardo, ne resterebbero ancora 880. Tra i temi affrontati, a margine dell'incontro di Palazzo Balbi, naturalmente quello dell'autonomia. E' una rivoluzione dopo la Costituzione del 1948. Questa è una vera pagina di storia che sarà percepita dai posteri, ha spiegato Zaia. La si finisca di attaccare il progetto dell'autonomia, perché sia chiaro che chi attacca l'autonomia, a questo punto, secondo me attacca il capo dello Stato. Perché non è incostituzionale, e se non è incostituzionale, in democrazia vuol dire, a me non risulta che il Quirinale abbia detto che non dà promulga a questo disegno di legge. Grazie. 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 Grazie.